Ci fa proprio piacere, così cambiamo un po' la tipologia di combattimento ogni tanto Due specialisti di spada e scudo Esatto Come diceva il mio capitano, questi sono due specialisti di questo tipo di combattimento Spada una mano e scudo No, va bene, va bene No Inizi di spostare il cane Via Uno 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 Due Due Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.